Lorenzo Alfieri, JP Morgan Asset Management, buongiorno ben arrivato, il 2016 è iniziato in modo burrascolo sui mercati, come si può interpretare questo inizio d'anno? Sicuramente è una fase complicata per gli investitori, anche per il cliente finale, è una volatilità molto alta ma che comunque noi prevedevamo e prevediamo che ci possa accompagnare anche nel 2016. Sicuramente non bisogna peraltro anche all'interno di questa volatilità perdere un po' di vista quelli che sono gli elementi tra virgolette positivi che rimangono, c'è una crescita sostenuta negli Stati Uniti, una crescita che addirittura sta rinvigorendo in Europa, il Giappone comunque ha delle dinamiche positive, la Cina non sta rallentando più di tanto, quindi sicuramente la volatilità è importante ma non bisogna offuscare un po' lo scenario che rimane direi sostanzialmente positivo anche alla luce del fatto che comunque le banche centrali stanno intervenendo, la Fed ha rialzato i tassi ma in modo molto leggero in Europa, in Giappone e anche in Cina vediamo come le politiche monetarie siano fortemente espansive. Direi e aggiungerei anche ad esempio che i consumi in Europa, negli Stati Uniti e anche in Cina rimangono molto sostenuti con tassi di crescita superiore al 10%, in uno scenario di questo genere quindi direi che ci sono ancora delle opportunità sicuramente molto interessanti. Nello scenario che lei quindi ha ben delineato quali sono le opportunità che intravedete soprattutto per generare rendimento? Ecco, diciamo che questa forte volatilità sta facendo emergere dei prezzi di entrata interessanti su alcune asset class che fino a poco tempo fa erano particolarmente care, ad esempio la yield americana di alta qualità, anche la yield europea di alta qualità, ad esempio opportunità su obbligazioni investment grade, ma anche nei mercati azionari pensiamo che negli Stati Uniti, anche se ovviamente i mercati azionari americani sono ai massimi storici, ci siano invece, si siano venuti a creare delle interessanti opportunità a causa appunto di queste forti correzioni. Rimaniamo anche interessati ai mercati europei e giapponesi, rimaniamo in questo momento lontani dai mercati azionari emergenti, pensiamo che ancora una strada di ristrutturazione debba avvenire, pensiamo che gli utili dei paesi emergenti, delle aziende dei paesi emergenti possano ancora maggiormente scendere, quindi aspettiamo un attimo per entrare in questi mercati.